Nel corso del 2020, l'attività operativa di polizia stradale, sia relativa al rilevamento degli incidenti stradali, sia in esecuzione di servizi speciali, ha inevitabilmente risentito dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19. Infatti, da un lato il fenomeno infortunistico ha fatto registrare un abbassamento dei valori, quale conseguenza naturale, dei divieti imposti anche alla mobilità di persone e veicoli. Dall'altro, in concomitanza con la vigenza dei citati divieti, sono stati temporaneamente sospesi tutti i servizi speciali ripresi nello scorso mese di giugno, mentre le pattuglie della polizia stradale sono state impegnate per garantire il massimo concorso alle attività disposte dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza per l'attuazione delle misure straordinarie di contenimento della diffusione del Covid. Fin dall'istituzione delle prime zone rosse, la polizia stradale ha profuso il massimo impegno nell'azione di controllo sul rispetto dei divieti di mobilità, attuando posti di blocco per la verifica. Alla data del 31 dicembre dello scorso anno, la polizia stradale in provincia ha effettuato 7.799 controlli di persone sull'intera rete viaria provinciale. Le persone complessivamente sanzionate sono state invece 514. Ridotto sensibilmente, come accennato, il fenomeno infortunistico, in particolare per quanto concerne il numero dei feriti, si riscontra una diminuzione del 22%, 74 feriti contro i 93 del 2019, mentre per gli incidenti mortali si è registrato un dato in controtendenza rispetto alla media nazionale con 5 incidenti mortali rispetto ai 4 del 2019. Dal 1 gennaio al 27 dicembre la polizia stradale della provincia ha effettuato 1.521 pattuglie di vigilanza stradale e contestato 5.674 infrazioni. Le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state 363, ritirate 251 patenti di guida e 301 carte di circolazione. I punti della patente decurtati sono stati 12.774. Dall'esame statistico annuale rimane significativo anche il dato riguardante il mancato uso delle cinture di sicurezza, con 826 infrazioni contestate e la mancanza di copertura assicurativa riscontrata in 520 veicoli sequestrati. I conducenti controllati con etilometri sono stati 224, di cui 45 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre quelli denunciati per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti sono stati 17. L'attività investigativa, prevalentemente indirizzata al contrasto dei fenomeni criminali legati al traffico illecito dei veicoli, ha portato a due arresti e 120 deferimenti all'autorità giudiziaria, sottoposti a sequestro 36 veicoli oggetto di riciclaggio.